La Scuola per il Sociale e l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Ruggero di Lauria apre le porte agli alunni della terza età per l'alfabetizzazione tecnologica. I ragazzi, i nostri giovani studenti e studentesse diventano per due ore docenti e i nonni stanno ad ascoltare. È un bel momento di incontro tra le generazioni e serve anche per superare l'isolamento a cui spesso vanno incontro gli anziani. Nonni Sud Internet è un progetto rivolto agli over 60 promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con l'Auser per estendere il modello di apprendimento intergenerazionale alle regioni del meridione che vivono situazioni di maggiore disagio sociale. I giovani apprendono dalle esperienze degli anziani recuperando la memoria storica. Gli anziani apprendono a loro volta, come in questo caso, l'utilizzo delle nuove tecnologie e di tutto ciò che è attuale. Si è instaurato un ottimo rapporto, un'interazione veramente stupenda tra i ragazzi e i nonni al fine dell'utilizzo di questo nuovo mezzo di comunicazione. Tipo la posta elettronica che i nonni non riescono ad usare, l'uso di Facebook, Skype. Questi sono i nostri obiettivi che vorremmo raggiungere con i nonni. Quanto è necessario saper utilizzare il computer oggi? Mi sono reso conto che se non si usa il computer, fra qualche giorno noi che abbiamo una cultura diversa, una preparazione diversa, saremo all'alfabeto. Non riusciremo a capire. Io sono già in difficoltà con una nipotina di dieci anni che usa benissimo il computer e spesso mi chiama e dice No, no, perché non ti metti in conto altro? Io non lo so fare. E allora tendo a prendere qualcosa, almeno per secondare i desideri della nipotina, che sono importantissimi. Vedo che hanno molte difficoltà. Comunque per me è stato molto importante questo approccio con queste persone, tra virgolette, anziane, che non ho mai avuto. E questa sindonia è bella.